L'Unione Europea è un'organizzazione che si fonda sullo Stato di diritto. Questo significa che gli Stati e le istituzioni che compongono l'Unione devono osservare le norme che si sono collettivamente dati. Ma a chi spetta decidere quando sorgono contrasti sul significato di tali norme o sul loro rispetto? In tutte le organizzazioni democratiche questo compito è svolto dal potere giurisdizionale. La Corte di giustizia dell'Unione Europea è l'organismo giurisdizionale dell'Unione. Ha sede in Lussemburgo e garantisce il rispetto e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e in tutte le istituzioni a vantaggio di noi cittadini. Se sorge una controversia sul significato di una norma dell'Unione o sulla sua validità, è la Corte di giustizia a chiarire la questione. Se, per esempio, un giudice nazionale non è sicuro del modo di applicare il diritto dell'Unione Europea, la Corte di giustizia è pronta ad assisterlo e può fornire decisioni preliminari sul significato del diritto dell'Unione che consentono al giudice nazionale di proseguire la causa. In questo modo, la Corte garantisce che noi, in quanto cittadini, beneficiamo della tutela fornita dal diritto dell'Unione nella stessa esatta maniera all'interno dell'intera Unione Europea. Giustizia per 500 milioni di persone garantita dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. Giustizia per 500 milioni di persone garantita dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea.